Senatore De Simone Andrea Senatore De Simone Andrea Senatore De Gaudi Ansaldo 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Felici Carlo 4.625 euro e 27 centesimi al mese Onorevole Felisetti Dino Luigi 5.005 euro e 43 centesimi al mese Senatore Degola Giorgio 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Felisario Lino Svaldo 3.038 euro e 96 centesimi al mese Onorevole Ferrandi Alberto 3.091 euro e 15 centesimi al mese Senatore De Pernino Antonio 6.939 euro e 61 centesimi al mese Onorevole Ferrara Giovanni 3.011 euro e 57 centesimi al mese Onorevole Ferrari Francesco 4.477 euro e 80 centesimi al mese Senatore del Turco Ottaviano 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Ferrari Marte 5.182 euro e 68 centesimi al mese Onorevole Ferrari Vilmo Carlo 3.043 euro e 76 centesimi al mese Senatore Del Vecchio Mauro 1.799 euro e 45 centesimi al mese Onorevole Ferrarotti Francesco 2.270 euro e 38 centesimi al mese Onorevole Ferrauto Romano 2.135 euro e 40 centesimi al mese Senatrice della Monica Silvia 1.409 euro e 27 centesimi al mese Onorevole Ferrari Enrico 2.139 euro e 87 centesimi al mese Onorevole Ferrari Giancarlo 3.022 euro e 83 centesimi al mese Senatore Del Nosso Costantino 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Ferrari Mauro 5.450 euro e 90 centesimi al mese Onorevole Fiandrotti Filippo 4.045 euro e 14 centesimi al mese Senatore Del Lomo Viaggio 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Fibbi Giulietta 4.035 euro e 39 centesimi al mese Onorevole Filippini Giovanna 2.633 euro e 43 centesimi al mese Onorevole Filippini Rosa 3.022 euro e 7 centesimi al mese Senatore De Masi Vincenzo 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Filocamo Giovanni 2.116 euro e 58 centesimi al mese Senatrice Dentamaro Ida Maria 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Fincato Laura 5.052 euro e 45 centesimi al mese Onorevole Fiore Giovannino 3.257 euro e 92 centesimi al mese Senatore Dettori Bruno 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Fiori Publio 9.950 euro e 5 centesimi al mese Onorevole Fiorello Custode 2.086 euro e 22 centesimi al mese Senatore Di Bella Saverio 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Fittante Costantino 2.124 euro e 28 centesimi al mese Onorevole Flego Enzo 3.311 euro e 50 centesimi al mese Senatore Di Benedetto Doriano 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Floresta Ilario 5.082 euro e 42 centesimi al mese Onorevole Folena Pietro 5.202 euro e 86 centesimi al mese Senatore Di Benedetto Giovanni 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Fongaro Carlo 2.147 euro al mese Onorevole Fonneso Antonio 2.147 euro al mese Senatore Di Girolamo Leopoldo 3.878 euro e 94 centesimi al mese Onorevole Fontanini Pietro 4.109 euro e 73 centesimi al mese Onorevole Forlani Arnaldo 6.062 euro e 49 centesimi al mese Senatore Di Lello Finuoli Giuseppe 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Florio Francesco 3.017 euro e 20 centesimi al mese Onorevole Formenti Francesco 4.059 euro e 19 centesimi al mese Senatore Di Maio Bruno 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Formentini Marco 2.092 euro e 59 centesimi al mese Onorevole Formica Costantino 2.112 euro e 92 centesimi al mese Senatore Di Nardo Aniello 3.288 euro e 71 centesimi al mese Onorevole Formica Salvatore 5.450 euro e 90 centesimi al mese Onorevole Fornale Matteolino 4.405 euro e 83 centesimi al mese Senatore Di Nubila Mario 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Fornasale Giuseppe 5.017 euro e 25 centesimi al mese Onorevole Forza Salvatore 3.015 euro e 94 centesimi al mese Senatore Di Orio Ferdinando 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Fortunato Giuseppe 2.161 euro e 82 centesimi al mese Onorevole Fati Luigi 5.001 euro e 75 centesimi al mese Senatore Di Siena Piero 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Fracanzari Carlo 5.846 euro e 61 centesimi al mese Onorevole Fracchia Bruno 5.463 euro e 90 centesimi al mese Senatore Diana Alfredo 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Francese Angela 4.035 euro e 39 centesimi al mese Onorevole Franzini Tibaldeo Paolo 2.276 euro e 99 centesimi al mese Senatore Diana Lino 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Franzo Renzo 5.092 euro e 50 centesimi al mese Onorevole Frasnelli Hubert 2.155 euro e 37 centesimi al mese Senatore Dini Lamberto 4.756 euro e 91 centesimi al mese Onorevole Frassone Mario 3.068 euro e 63 centesimi al mese Onorevole Fratta Pasini Piero Alfonso 4.456 euro e 13 centesimi al mese Senatore Dionisi Angelo 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Fredda Angelo 3.011 euro e 57 centesimi al mese Onorevole Frigato Gabriele 4.072 euro e 71 centesimi al mese Senatore Di Paolo Giuseppe 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Frigiera Gian Stefano 2.142 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Fronza Lucia 3.091 euro e 15 centesimi al mese Onorevole Fronzuti Giuseppe 3.011 euro e 11 centesimi al mese Onorevole Fumagalli Marco 4.040 euro e 80 centesimi al mese Senatore Dolazza Massimo 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Furia Giovanni 4.042 euro e 52 centesimi al mese Onorevole Fusaro Carlo 2.290 euro e 2 centesimi al mese Senatrice Donati Anna 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Fusillo Nicola 3.051 euro e 26 centesimi al mese Onorevole Gagliardi Alberto Giorgio 2.089 euro e 93 centesimi al mese Senatore Donato Angelo 3.408 euro e 19 centesimi al mese Senatore Donelli Claudio 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Gaet Giovanni 2.157 euro e 1 centesimi al mese Onorevole Galante Michele 2.198 euro e 28 centesimi al mese Senatore Donizio Eugenio 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Galante Severino 4.083 euro e 55 centesimi al mese Onorevole Galasso Alfredo 2.127 euro e 99 centesimi al mese Senatore Donofrio Francesco 6.726 euro al mese Onorevole Galasso Andrea 3.018 euro e 83 centesimi al mese Onorevole Galasso Giuseppe 4.019 euro e 6 centesimi al mese Senatore Doppio Giuseppe 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Galbiati Domenico 2.150 euro e 40 centesimi al mese Onorevole Galdelli Primo 4.054 euro e 99 centesimi al mese Senatore Dugiani Cesare Amato 6.227 euro e 26 centesimi al mese Onorevole Galeazzi Renato 3.029 euro e 22 centesimi al mese Onorevole Galletti Paolo 3.017 euro e 20 centesimi al mese Senatore Duovielmo 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Galli Giacomo 2.098 euro e 57 centesimi al mese Onorevole Galli Giancarlo 4.062 euro e 45 centesimi al mese Senatore Duvantonio 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Galli Maria Luisa 3.270 euro e 37 centesimi al mese Onorevole Galliani Luciano 1.647 euro e 1647 euro al mese Senatore L. Ero Renato 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Galli Elisabetta 1.934 euro e 17 centesimi al mese Onorevole Galliani Giovanni 5.450 euro e 90 centesimi al mese Senatore Eroi Bruno 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Galvagno Giorgio 1.645 euro e 38 centesimi al mese Onorevole Gambale Giuseppe 5.000 euro e 57 centesimi al mese Senatore Ofimio Maurizio 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Gambini Sergio 3.045 euro e 36 centesimi al mese Onorevole Gamborato Pietro 4.043 euro e 24 centesimi al mese Senatore Fabio Fabio 6.227 euro e 26 centesimi al mese Onorevole Gandolfi Aldo Antonio 2.272 euro e 84 centesimi al mese Onorevole Garbi Mario 3.240 euro e 91 centesimi al mese Senatore Fabrini Fazio 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Gargano Giuseppe 6.629 euro e 75 centesimi al mese Onorevole Gargano Mario 4.035 euro e 39 centesimi al mese Senatore Fabiani Piero 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Garocchio Alberto 3.016 euro e 73 centesimi al mese Onorevole Garra Giacomo 3.028 euro e 46 centesimi al mese Senatrice Fabiada Valeria 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Gaspo Piero Luigi 4.053 euro e 16 centesimi al mese Onorevole Gasparotto Isaia 4.114 euro e 97 centesimi al mese Senatore Fabris Giovanni 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Gasperoni Pietro Natale 3.035 euro e 81 centesimi al mese Onorevole Gastaldi Luigi 3.038 euro e 96 centesimi al mese Senatore Fabius Pietro 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Dalla Via Alessandro 2.300 euro e 51 centesimi al mese Onorevole Dalla Ara Giuseppe Lorenzo 2.157 euro e 62 centesimi al mese Senatore Cortese Marino 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Dalla Amato Carlo 2.999 euro e 85 centesimi al mese Onorevole Dameri Silvana 3.030 euro e 9 centesimi al mese Senatore Cortese Luigi 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Damore Emilio 4.042 euro e 63 centesimi al mese Onorevole Dalla Andrea Mattia per Giuseppe 2.139 euro e 47 centesimi al mese Senatore Cortiana Fiorello 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Danesi Emo 3.011 euro e 57 centesimi al mese Onorevole D'Angelo Guido 2.259 euro e 2 centesimi al mese Senatore Cosentino Lionello 2.599 euro e 3 centesimi al mese Onorevole Danini Ferruccio 2.158 euro e 85 centesimi al mese Onorevole Darida Clerio 5.756 euro e 70 centesimi al mese Senatore Costa Rosario Giorgio 6.279 euro e 65 centesimi al mese Onorevole Davoli Giamman Battista 2.127 euro e 99 centesimi al mese Onorevole De Benetti Lino 4.043 euro e 24 centesimi al mese Senatore Costalli Carno 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole De Biasi Gaiotti Paola 2.124 euro e 28 centesimi al mese Onorevole De Brasi Raffaello 3.243 euro e 2 centesimi al mese Senatore Covatta Luigi 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole De Carneri Sergio 3.091 euro e 15 centesimi al mese Onorevole De Caro Paolo 3.028 euro e 73 centesimi al mese Senatore Covello Francesco 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole De Carolis Massimo 3.016 euro e 73 centesimi al mese Onorevole De Felice Fabio 2.127 euro e 99 centesimi al mese Senatore Covallo Romualdo 6.227 euro e 26 centesimi al mese Onorevole De Franciscis Ferdinando 2.116 euro e 58 centesimi al mese Onorevole De Ghislanzoni Cardo Giacomo 4.064 euro e 20 centesimi al mese Senatore Cozzolino Carmine 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole De Grazia Giuseppe 2.130 euro e 65 centesimi al mese Onorevole De Gregorio Antonio 2.611 euro e 17 centesimi al mese Senatore Craveri Piero 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole De Gregorio Michele 3.017 euro e 20 centesimi al mese Onorevole De Julio Sergio 3.011 euro e 57 centesimi al mese Senatore Cravero Dario 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole De Lorenzo Francesco 4.013 euro e 55 centesimi al mese Onorevole De Luca Anna Maria 2.120 euro e 98 centesimi al mese Senatore Crescenzo Mario 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole De Luca Stefano 4.043 euro e 24 centesimi al mese Onorevole De Michelis Gianni 5.517 euro e 59 centesimi al mese Senatore Creuso Maurizio 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole De Mita Luigi Ciriaco 7.006 euro e 18 centesimi al mese Onorevole De Petro Mazzarino 2.156 euro e 62 centesimi al mese Senatore Cripa Aurelio Giuseppe 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole De Piccoli Cesare 4.093 euro e 17 centesimi al mese Onorevole De Poli Dino 2.153 euro e 99 centesimi al mese Senatore Crisa Fullibola di Miro 2.598 euro e 85 centesimi al mese Onorevole De Rosa Emilio 3.043 euro e 76 centesimi al mese Onorevole De Simone Alberta 4.016 euro e 44 centesimi al mese Senatore Crocetta Salvatore 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole De Simone Domenico 3.039 euro e 99 centesimi al mese Onorevole De Vidovic Renzo 2.147 euro al mese Senatore Cuffaro Antonino 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole De Zuiueta Otram Cayetana 4.035 euro e 39 centesimi al mese Onorevole De Biasio Canimani Luisa 2.293 euro e 10 centesimi al mese Senatore Cursi Cesare 6.279 euro e 65 centesimi al mese Onorevole De Donia Antonina 2.112 euro e 54 centesimi al mese Onorevole De Iana Lettra 3.011 euro e 57 centesimi al mese Senatore Curto Euprepio 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole De Barone Giuseppe 2.259 euro e 2 centesimi al mese Onorevole De Buemauro 4.048 euro e 56 centesimi al mese Senatore Cusumano Stefano 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole De Duc Antonio 4.067 euro e 59 centesimi al mese Onorevole De Mese Paolo 4.968 euro e 4 centesimi al mese Senatore Cutrera Achille 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole De Noce Fabrizio 2.095 euro e 39 centesimi al mese Onorevole Del Prete Antonio 3.028 euro e 73 centesimi al mese Senatore Cutrufo Mauro 5.583 euro e 76 centesimi al mese Onorevole Del Rio Giovanni 3.050 euro e 10 centesimi al mese Onorevole Del Fino Leone 2.086 euro e 22 centesimi al mese Senatrice D'Alessandro Franca 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Del Fino Raffaele 5.461 euro e 98 centesimi al mese Onorevole Della Valle Raffaele 2.144 euro e 58 centesimi al mese Senatore Dalla Chiesa Fernando 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Del Lunto Paris 4.992 euro e 22 centesimi al mese Onorevole Del Mastro De Levedo Sandro 3.017 euro e 94 centesimi al mese Senatore Dalle Murasauro 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Demetri Giuseppe 4.026 euro e 91 centesimi al mese Onorevole Del Dato Giovanni Giulio 3.016 euro e 73 centesimi al mese Senatore D'Amaggio Saverio 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole De Betag Flavio 2.150 euro e 29 centesimi al mese Onorevole De Vicenti Angelo Raffaele 2.142 euro e 82 centesimi al mese Senatore D'Ambrosio Alfredo 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Di Bartolomei Mario 2.124 euro e 28 centesimi al mese Onorevole Di Capo Fabio Claudio 2.954 euro e 58 centesimi al mese Senatore D'Amelio Saverio 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole Di Comite Francesco 2.273 euro e 57 centesimi al mese Onorevole Di Donato Giulio 4.035 euro e 39 centesimi al mese Senatore D'Amico Natale 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Di Fonzo Giovanni 3.017 euro e 20 centesimi al mese Onorevole Di Giandomenico Remo 2.127 euro e 69 centesimi al mese Senatore D'Andrea Giampaolo 4.358 euro e 68 centesimi al mese Onorevole Di Giuseppe Cosimo Damiano Franca 2.285 euro e 22 centesimi al mese Onorevole Di Laura Frattura Fernando 2.116 euro e 58 centesimi al mese Senatrice Daniele Maria Grazia 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Di Luca Alberto 4.040 euro e 80 centesimi al mese Onorevole Di Muccio De Quarto Pietro 2.270 euro e 38 centesimi al mese Senatore Daniele Franco 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole Di Pietro Giovanni 3.017 euro e 20 centesimi al mese Onorevole Di Prisco Elisabetta 3.046 euro e 10 centesimi al mese Senatore Daniele Paolo 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole Di Stasi Giovanni 3.016 euro e 74 centesimi al mese Onorevole Diana Lorenzo 4.042 euro e 63 centesimi al mese Senatore Danzi Corrado 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Di Aziana Lesa 2.150 euro e 60 centesimi al mese Onorevole Diglio Pasquale 4.055 euro e 4 centesimi al mese Senatore De Anna Dino 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Di Gnani Vanda 3.029 euro e 22 centesimi al mese Onorevole Di Liberto Riviero 4.992 euro e 22 centesimi al mese Senatore De Calori Sistelio 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Di Bella Giovanni 2.145 euro e 57 centesimi al mese Onorevole Domeici Leonardo 3.162 euro e 24 centesimi al mese Senatore De Cinque Germano 6.227 euro e 26 centesimi al mese Onorevole Donazzon Renato 3.046 euro e 10 centesimi al mese Onorevole Donner Luciano 2.153 euro e 99 centesimi al mese Senatore De Ecke Cristiano 1.788 euro e 61 centesimi al mese Onorevole Dosi Fabio 3.017 euro e 20 centesimi al mese Onorevole Dotti Vittorio 2.130 euro e 65 centesimi al mese Senatrice De Feodiana 1.824 euro e 16 centesimi al mese Onorevole Duca Eugenio 4.055 euro e 56 centesimi al mese Onorevole Duce Alessandro 2.127 euro e 99 centesimi al mese Senatore Giuseppe Giorgio 6.583 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Dussin Luciano 4.182 euro e 62 centesimi al mese Onorevole Ebner Michel 5.154 euro e 35 centesimi al mese Senatore De Guidi Guido Cesare 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Emiliani Vittorio 2.124 euro e 28 centesimi al mese Onorevole Epifani Vincenzo 2.146 euro e 53 centesimi al mese Senatore De Luca Atos 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Herminero Enzo 4.865 euro e 20 centesimi al mese Onorevole Erpete Affredo 2.074 euro e 86 centesimi al mese Senatore De Luca Michele 3.408 euro e 19 centesimi al mese Onorevole Enrico Di Ametropietro 2.147 euro al mese Onorevole Fabio Orlando 3.044 euro e 92 centesimi al mese Senatore De Luca Vincenzo 1.845 euro e 42 centesimi al mese Onorevole Fabrius Mauro 4.111 euro e 5 centesimi al mese Onorevole Facchetti Giuseppe 2.144 euro e 4 centesimi al mese Senatore De Martino Guido 5.692 euro e 79 centesimi al mese Onorevole Facchiano Ferdinando 3.011 euro e 11 centesimi al mese Onorevole Fachin Silvana 3.168 euro e 75 centesimi al mese Senatore De Notaris Francesco 2.381 euro e 64 centesimi al mese Onorevole Faenzi Ivo 4.062 euro e 18 centesimi al mese Onorevole Faggiano Cosimo 2.288 euro e 92 centesimi al mese Senatore De Paolo Elidio 4.581 euro e 48 centesimi al mese Onorevole Falconio Antonio 2.157 euro e 62 centesimi al mese Onorevole Falomio Antonio 4.992 euro e 22 centesimi al mese Senatore De Prisco Gerardo 2.381 euro e 64 centesimi al mese